Prima lo scandalo e gli arresti per l'assenteismo negli uffici di Palazzo Comunale a Sanremo e poi i licenziamenti dei dipendenti considerati fannulloni. Ora rischio che in alcuni uffici di Palazzo Civico non ci sia più personale a sufficienza per coprire i turni di servizio. E proprio per evitare disservizi nei confronti degli utenti, il sindaco della città dei Fiori, Alberto Biancheri, sta correndo ai ripari, ha scritto al presidente del Consiglio Matteo Renzi, per chiedere una deroga sull'assunzione. Biancheri ha fatto presente a Renzi che si trova con 32 dipendenti licenziati e altri 51 sospesi dal lavoro e che quindi l'organico del Comune è praticamente decimato. Da qui la necessità di bandire nuovi concorsi per l'assunzione di personale e far fronte oltre alle esigenze dell'utenza anche ai progetti inettinere, alcuni dei quali sono confinanziati dall'Unione Europea per la bellezza di 8 milioni di euro che rischiano di andare perduti. Grazie. Grazie.